Dal panorama della Torre delle Girone di Peglio si spalanca una finestra su quello che sarà Pesaro, capitale italiana della cultura 2024 e in particolare quello che sarà il progetto 50x50 capitale al quadrato. Valla a dire il calendario di eventi che vedrà al fianco di Pesaro ogni comune della provincia in versione capitale per una settimana. 12 mesi itineranti che partiranno il 22 gennaio da Vallefoglia e si concluderanno a dicembre con Urbino e Monte Grimano Terme. Un patto fra i sindaci dei comuni della provincia che sabato si sono ritrovati all'Appennino Festival di Peglio luogo non casuale in quanto terra del compianto Daniele Tagliolini, grande unificatore della provincia. Il tema che essendo 52 settimane dell'anno ogni comune della provincia sarà capitale assieme a Pesaro per una settimana sviluppando un proprio programma ragionato ovviamente con Pesaro, con i nostri progettisti ma in base alle sensibilità dei vari territori costruiti durante un anno di lavoro con tanti incontri fatti dalle unioni montane, le unioni comuni, insomma per far emergere un connubio tra istanze degli amministratori ma anche istanze degli artisti e dei creativi per fare in modo che questa capitale sia veramente un'opportunità di crescita, di riconnessione, di rapporti, di territori e che nelle 50 settimane ci sia un racconto forte non solo diciamo di un anno straordinario ma di un territorio straordinario perché crediamo che in questo sia un po' il segreto di un progetto che vuole essere di crescita non solo di manifestazione di 12 mesi. Siamo convinti che proprio il territorio possa essere il punto di partenza per poter ripensare le politiche pubbliche, l'idea di cultura non soltanto come intrattenimento ma la cultura in realtà come vero e proprio driver di sviluppo per le comunità locali per questa ragione partiamo proprio da qui, partiamo da un piccolo comune un piccolo comune delle aree interne che per noi non sono interne ma sono interiori ovvero sono quella dimensione interiore e spirituale che può dare tantissima forza allo sviluppo del progetto di capitale e quindi rendere forte quella che per noi vorrà essere l'eredità che la capitale italiana della cultura mette a disposizione del paese proprio per poter ripensare la cultura non soltanto in questo territorio ma un po' in tutto il paese. Oggi abbiamo dato l'elenco, partiremo con Vallefoglia e finiremo con Montegrimano ed è molto bello perché la nostra volontà è quella attraverso il dossier La Natura della Cultura di raccontare la bellezza dell'intera provincia di Pesururbino ovviamente partendo da Pesaro ma non abbiamo mai voluto vivere in maniera egoistica questo riconoscimento perché può davvero segnare il futuro del nostro territorio dobbiamo mettercela tutta, c'è grande entusiasmo, ognuno sta cercando di fare il meglio in quella settimana valorizzeremo delle peculiarità fantastiche e anche gli eventi che si svolgeranno saranno in tutto il territorio quindi davvero partiamo con il piede giusto Oggi davvero arriva una spinta notevole in un comune che ho nel cuore non solo perché è molto bello ma perché è il comune di Daniele Tagliolini che come me credeva molto nell'unità della provincia di Pesururbino nella sua capacità di stare insieme e questa volta davvero c'è un bel gioco di squadra e credo che Daniele dall'alto oggi sia molto contento di vederci lavorare insieme Ovviamente Perpeglio è stata una vetrina importantissima siamo molto contenti e ringraziamo anche il Festival di Appennino e che nella gestione, nella collaborazione rispetto a questo evento ci ha anche allestito tutta la location e gestito la cosa in maniera impeccabile C'è stata una grande partecipazione e quindi il successo dell'iniziativa passa attraverso la partecipazione di tutti i comuni non abbiamo potuto soddisfare tutte le richieste pervenute abbiamo fatto del nostro meglio ampliando anche il budget a disposizione da 200.000 euro a 250.000 euro e pensiamo di poter essere ancora vicini agli organizzatori quindi a tutto lo staff che organizza per vedere cosa potremo e se potremo fare ancora qualcosa per questo evento Le cose vanno avanti il 10 d'ottobre avremo gli stati generali del turismo lì verrà svelato qualche altra anteprima del programma e poi avremo un grande evento tra la fine di novembre e primi di dicendo a Roma che sarà non solo una conferenza stampa ma un evento di presentazione nazionale quindi rispetto alle altre città in verità siamo partiti molto prima e quindi sarà una bella cavalchiata un bel crescendo rossignano verso un appuntamento storico per tutti noi Sicuramente abbiamo detto che questo anno inizierà da quelli che sono gli aspetti di calendario più importanti pensiamo alla Befana di Urbani che è già un momento nazionale o al Carnevale di Fano o al compleanno di Rossini il 29 febbraio termineremo, questo sì, lo possiamo rendere chiaro con Urbino perché è un po' la volontà di proiettare tutto questo lavoro anche verso la capitale 2033 europea sfida che abbiamo già annunciato con tanti sindaci a Matera nel 2019 sfida che fa parte del lavoro anche di questi mesi e quindi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti